Capitolo 4 Porto un imbo a farsi un frappè La prima richiesta arrivò il giorno successivo. Almeno questa volta avevo seguito tutte le lezioni. Ero sopravvissuto a matematica, avevo tenuto gli occhi aperti durante letteratura, fatto un pisolino in aula studio, l'ora preferita di sempre, e conosciuto la squadra di nuoto alla settima ora. Il coach ci aveva informato che il primo allenamento sarebbe stato il giovedì successivo. Nessun problema, a patto che mi ricordassi di non respirare sott'acqua, non nuotare a velocità supersonica e non uscire dalla piscina perfettamente asciutto, cose che tendevano a farmi guadagnare occhiate strane. Fu solo mentre stavo andando all'appuntamento con Annabeth e Grover al limbo juiz che fui avvicinato da un dio. Ero seduto sul treno della linea F, quando sopra di me si proiettò un'ombra. Posso sedermi qui? Capì subito che ero nei guai. In metropolitana nessuno parla se può evitarlo, specie con persone che non conosce. Nessuno chiede mai se può sedersi accanto a te. Semplicemente si incunea in qualunque posto disponibile e, oltretutto, la carrozza era quasi vuota. Il tipo di fronte a me era sui vent'anni. Aveva i capelli neri tagliati corti, due grandi occhi scuri e la pelle ramata. Indossava jeans strappati, una maglietta nera aderente e vari ornamenti d'oro. Anelli, orecchini, collana, anellino al naso, braccialetti. Persino i lacci delle scarpe luccicavano d'oro. Sembrava appena uscito da uno spot per una boutique di Madison Avenue. Compra i nostri gioielli e diventa come lui. Sì. Sentì una zaffata di acqua di colonia, un misto di cannella e chiodi di garofano. Mi fece lacrimare gli occhi. Lo sconosciuto parlo di nuovo. «Cosa?» chiesi. Indicò il posto accanto a me. «Oh, grazie!» vi si lasciò cadere in una nuvola di profumo esageratamente dolce. Volse lo sguardo verso gli altri sei passeggeri della carrozza. Schioccò le dita, come se stesse chiamando un cane, e quelli si pietrificarono. Non che ci fosse qualche differenza rispetto a prima. «Dunque», allargò sulle ginocchia le dita ben curate e mi indirizzò un sorriso sbieco. «Persi Jackson, che piacere!» «Che Dio sei?» fece il broncio. «Cosa ti fa pensare che io sia un Dio?» Ho tirato a tutto per mimetizzarmi. Mi sono persino vestito. «Apprezzo lo sforzo, giuro.» «Beh, hai rovinato la grande rivelazione. Sono Ganimede, amato coppiere di Zeus, e ho bisogno del tuo aiuto.» «Che ne dici, Persi Jackson?» Il treno arrivò stridendo alla mia fermata. Senz'altro Annabeth e Grover mi stavano già aspettando. «Ti piacciono i frappè del Limbo Joyce?» fu la mia risposta. Avevo avuto ogni genere di incontro con gli dèi prima di allora, ma quella era la prima volta che ne portavo uno in una frullateria. Il locale era pieno. Fortunatamente Annabeth e Grover erano riusciti ad accaparrarsi il nostro solito tavolino nell'angolo. La mia ragazza mi fece un cenno con la mano. Poi, quando vide il tipo tutto bardato d'oro che mi seguiva, aggrottò le sopracciglia. «Abbiamo già ordinato», disse mentre ci infilavamo nella panca di fronte a loro. «Non sapevo che avresti portato un amico.» «Grover!» urlò il cameriere dal bancone. Come la maggior parte dei tizi che lavoravano lì, era enorme, palestrato, in canottiera e con un sorriso di un bianco accecante. «Pronti un frozen yogurt fiji! Un salty sailor e un golden eagle!» «Un'aquila? Dove?» strillò Ganimede facendo del proprio meglio per nascondersi sotto il tavolo. Annabeth e Grover si scambiarono uno sguardo confuso. «Io vado a prendere l'ordine», disse il satiro e trotterellò al banco. «Il golden eagle non è un'aquila d'oro, è un frappè», spiegò Annabeth a Ganimede, ancora curvo e tremante. Con cautela il dio si raddrizzò. «Ho dei traumi risolti con le aquile!» «Tu devi essere Ganimede», indovinò Annabeth. Il dio aggrottò le sopracciglia e abbassò lo sguardo sulla propria maglietta. «Porto la targhetta con il nome? Come fai a saperlo?» «Beh, sei bellissimo», rispose Annabeth. «La cosa sembrò risollevarlo. Purtroppo non potevo dire lo stesso del mio umore». «Grazie», gongolò. «E dicono che Ganimede sia il più bello degli dèi», continuò Annabeth. «Insieme ad Afrodite, ovviamente». Ganimede scosse la testa come se stesse soppesando il confronto. «Te lo concedo». «Eri mortale», riprese Annabeth, «ed eri così avvenente che Zeus si è trasformato in un'aquila e ti ha rapito portandoti sull'Olimpo». Ganimede rabbrividì. «Proprio così, molto tempo fa, ma il ricordo brucia ancora». Grover riapparve con un vassoio di frappè. «Io preso un Megamed», disse a Ganimede. «Spero che vada bene. Cosa mi sono perso?» «È un dio», lo misi al corrente. «Lo so», fece Grover. «È Ganimede». «Come fai a...» Ganimede si fermò. «Non importa». «Stava a punto per spiegarci perché è venuto a cercarmi», dissi. Grover distribuì i frappè. «Il salty sailor per me, ovviamente. Solo un pizzico di caramello salato con mela e banana. Il frozen yogurt fiji era di Grover, il golden eagle per Annabeth, curcuma, zenzero, latte di cocco e un mucchio di roba brain food, cibo per la mente, come se su quel fronte avesse bisogno di aiuto». Ganimede mescolò pensoso il suo Megamed, occhieggiando di tanto in tanto il frullato di Annabeth, come se potesse farsi crescere gli artigli, strapparlo dal posto dove era seduto e portarselo in cielo. «Ho visto il tuo annuncio in bacheca, Percy», esortì. «E mi è sembrato fin troppo bello per essere vero». «Devo dire grazie?» «E tutto quello che devo fare per ricompensarti è scrivere una lettera di presentazione». Mi morsi la lingua per evitare di lasciarmi scappare parecchi commenti. «Si apprezzano le mance. A dire il vero è in vigore un aumento di prezzi». «Questo è l'accordo. E io cosa dovrei fare?» «Noi» mi corressero all'unisono Annabeth e Grover. Ganimede infilò la cannuccia nel coperchio del frappè con un fastidioso stridio. «Devo essere sicuro che userete la massima discrezione», disse abbassando la voce e lanciando nervose e furtive occhiate intorno, anche se gli altri clienti non ci prestavano la minima attenzione. «Non potrete parlarne con nessuno». «Intesi?» «La discrezione per noi è la regola», garantì Grover, che una volta, urlando a squarciagola, si era lanciato in picchiata e alla cieca su medusa con ai piedi un paio di scarpe alate. Ganimede si sedette un po' più dritto. «Quanto sapete delle mie responsabilità sul Monte Olimpo?» «Sei il coppiere degli dèi», rispose Annabeth. «Deve essere un gran bel lavoro», fece Grover con aria sognante. «Immortalità, potere divino, servire da bere e basta», Ganimede si incubì. «È un lavoro orribile». «Ah, certo, orribile», convenne Grover annuendo. «Tutto quello a versare da bere». Quando si trattava di farlo soltanto alle feste era una cosa», spiegò Ganimede. «Ma ora il 90% delle mie ordinazioni sono consegne. Ares vuole che il nettare gli venga recapitato sul campo di battaglia. Afrodite esige il suo solito drink con ghiaccio tritato fine e due ciliegie al maraschino nel giro di un quarto d'ora, o anche meno, in una sauna di Helsinki. Efesto? Non fatemi parlare di Efesto. Questa gig economy mi sta uccidendo». «Ok», intervenni io. «E noi come possiamo aiutarti?» Temetti che volesse subappaltarmi i suoi giri di consegne e finissi a distribuire drink in tutto il mondo. «Il simbolo più importante del mio incarico», fece Ganimede. «Indovinate». Probabilmente era una domanda trabocchetto. «Dato che sei il coppiere degli dèi, tiro a indovinare una coppa?» «Non una coppa qualsiasi!» gridò Ganimede. «Il calice degli dèi! Il boc...»